Allora, meeting outdoor oggi con la dottoressa Ventura per un approfondimento sulle contraddicazioni sugli effetti collaterali di Sex End. Io pensavo che l'effetto collaterale indesiderato più frequente fosse la nausea, invece abbiamo scoperto, confrontandoci con la dottoressa Ventura, che in realtà è la costipazione il fastidio più frequente, ma abbiamo anche capito come lo risolviamo. Adesso ce ne parla un po' la dottoressa Ventura. Sì, la costipazione durante il trattamento con l'iraglutide può avere diverse cause. Di solito viene ben risolto con l'aiuto di alcune semplici integrazioni e una correzione su alcuni stili di vita e abitudini alimentari. Qualora fosse necessario, interviene anche sul campo la nostra valida gastroenterologa e di solito i problemi si risolvono nel giro di pochi giorni. Sì, perché vi ricordo che all'interno del nostro team per la gestione del peso con il supporto farmacologico abbiamo anche una gastroenterologa che periodicamente si offre per fare le visite periodiche.